collaboro con il tsm ormai dal 2020 e considerato insomma anche il periodo in che abbiamo vissuto devo dire che la formazione che era stata programmata in persona è stata immediatamente riprogrammata attraverso appunto la tsm in modalità virtuale devo dire che sono rimasto molto colpito dalla capacità di tsm diciamo la resilienza di tsm nel confermare la programmazione la formazione e quindi continuare l'attività di formazione nonostante appunto le restrizioni che c'erano in quel momento la collaborazione è proseguita direi fruttuosamente per altri due anni abbiamo collaborato e nell'erogazione di se non ero sei edizioni del corso in project management coinvolgendo appunto molti molti funzionali dipendenti della provincia autonoma di tsm è stata sempre diciamo al nostro fianco nel supportarci e nel fornirci tutta la necessario per la formazione che negli anni appunto poi è migliorata anche grazie appunto ai feedback e quindi alla capacità di ascolto di tsm dei suoi dei partecipanti ai corsi quindi l'assistenza oltre ovviamente al contenuto della formazione essenziale appunto per il successo dell'iniziativa e con tsm questo è avvenuto in maniera impeccabile direi e quindi speriamo che nel futuro insomma ci siano altre collaborazioni che continuino in questo modo che sicuramente ha portato e porterà frutti non solo a tsm come ente di formazione ma poi anche ai partecipanti che hanno potuto appunto soffrire dei servizi e della qualità della formazione erogata da tsm